In attesa che parta il ciclo del nuovo impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti, l'assemblea dei sindaci della SRR4 deve affrontare un altro punto, forse tra i più delicati, in settimana nuovo incontro, ma questa volta per valutare gli sviluppi della procedura che dovrebbe condurre alla gara pluriennale. Non è ancora stata affidata quella breve da un anno, con due tentativi andati deserti, ma i sindaci si confronteranno su quello che dovrà essere il contenuto del bando, pesante anche da un punto di vista degli importi economici. Il sindaco di Riesi, Salvatore Chiantia, che presiede la SRR4, spiega che bisognerà valutare quali siano le posizioni di tutti i comuni in merito al contenuto del bando e all'organizzazione del servizio. Chiantia fa riferimento anche alle dichiarazioni del sindaco Lucio Greco, che ha parlato di un possibile progetto in partnership con Eni che riguardi proprio i rifiuti. A giorni, inoltre, il RUP incaricato trasmetterà alla centrale unica di committenza gli atti per mettere nuovamente a gara la procedura a breve, questa volta però con una suddivisione in lotti territoriali. Oggi, invece, è in programma un sopralluogo al nuovo impianto TMB, forse quello conclusivo. I vertici della SRR, quelli del lato in liquidazione, i tecnici che hanno seguito i lavori e svolto le attività dovrebbero verificare le condizioni per l'avvio a pieno regime del sistema. Una proroga per il TMB mobile a timpazzo è stata di recente garantita fino al mese di novembre. Chiantia i tecnici sembrano però sicuri che il nuovo TMB possa partire già da prima, poi sarà la volta della società in house che, guidata da un manager selezionato con l'avviso appena pubblicato, le prime domande peraltro sono già pervenute, dovrà poi prendere in gestione l'intera impiantistica del ciclo rifiuti locale.